bene buongiorno oggi ascoltiamo la presentazione di laurea di angelo cicchiello dal titolo progetto e realizzazione tramite stampa 3d di un meccanismo a moto intervittente prego buongiorno come tutto professore oggi presenteremo la tesi la mia tesi laurea triennale in ingegneria meccanica intitolata progetto realizzazione tramite stampa 3d di un meccanismo a moto intermittente vedremo la stampa 3d i vantaggi e limiti che tale tecnologia offre meccanismo a cricchetto nottolino che il meccanismo oggetto di tale tesi progettazione cad del meccanismo il processo di stampaggio 3d e i problemi riscontrati durante la stampa infine infine vedremo il meccanismo il meccanismo assemblato e il funzionamento la stampa 3d è una tecnologia che contribuisce in modo in modo importante sulla sulla competitività di un'azienda nota anche come fabbricazione additiva costruisce l'oggetto fabbricando lo strato dopo strato i vantaggi che offre tale tecnologia sono costi di avvio bassi infatti per stampare in 3d occorre la stampante e il materiale da stampare velocità di prototipazione l'oggetto viene caricato direttamente dal cad e stampato nel giro di poche ore laddove prima servivano giorni o addirittura settimane per ottenere il prototipo ora quest'ultimo viene in mano al progettista nel giro di poche ore complessità geometrica ammesse per via della formulazione stato dopo strato la complessità geometrica non comporta costi aggiuntivi infine molto importante la sostenibilità infatti nelle tecniche di fabbricazione tradizionali sia che viene rimosso dell'oggetto da un blocco iniziale per ottenere ciò che si desidera mentre ora viene utilizzato solamente il materiale necessario con conseguente riduzione dei rifiuti invece i limiti di questa tecnologia sono le stanno le dimensioni di costruzione limitate le stampanti 3d solitamente hanno un volume di stampa abbastanza ridotto e quindi anche le parti che possono essere stampate sono dimensioni ridotte se si vuole stampare una parte un oggetto più grande occorre assemblarlo dopo dopo aver stampato le singole parti post elaborazione ogni singolo componente dopo la stampa deve subire delle operazioni secondarie come la finitura mediante carta vetrata oppure il ripasso dei fori che si sono ristretti per via delle contrazioni termiche inoltre la resistenza dei pezzi prodotti tramite stampate di è minore di quella delle controparti dei loro controparti prodotte tradizionalmente sempre per via della formulazione stato dopo strato inoltre un limite è quello della produzione infatti conviene stampare in 3d quando il volume di produzione è stata le 10 e le 100 unità oltre a questo conviene utilizzare la stampa tradizionale vediamo ora il meccanismo agricchetto e nottolino che il meccanismo oggetto di tale tesi questo permette di convertire un ingresso oscillante in una rotazione intermittente i punti forti di questo meccanismo sono semplicità basso costo ed affidabilità questo meccanismo è caratterizzato da un elevato rapporto carico taglia il che significa che può sollevare un elevato carico in relazione alla sua piccola taglia tale meccanismo è impiegato in un elevato numero di applicazioni facendo facendo un cenno storico possiamo vedere nell'immagine in basso a sinistra un ritrovamento di un calendario bizantino del settecento in cui è possibile notare il meccanismo questo dimostra che tale meccanismo era già in uso nell'epoca bizantina inoltre tale meccanismo e appare frequentemente anche nei tacchini di leonardo da vinci come controllo dei motori di guerra vediamo infatti in figura in basso a destra un uomo che carica una catapulta e il meccanismo gli permette di farlo in brevi passi soffermandosi tra le variazioni di carico parlando ora della progettazione cad possiamo dire possiamo dire che avvenuta mediante attraverso il software di progettazione solidworks 2016 ed è avvenuta in parallelo all'analisi di movimento ovvero si è progettato una bozza iniziale e poi componenti sono stati modificati mediante le osservazioni derivanti dall'analisi di movimento che ci permette di verificare il corretto funzionamento del meccanismo le analisi di movimento sono state implementate le seguenti funzioni la gravità che appunto dona gravità al meccanismo e la direzione della gravità è quella azzurra in figura che è la direzione che risulterà poi essere quella ortogonale alla base del telaio il contatto che fornisce contatto anzi si fornisce contatto alle parti del meccanismo è stato implementato il contatto tra i nottolini e la ruota e il motore che muove il motore come se fosse azionato muove le componenti come se fosse azionato da un motore se si è scelto di mettere un motore oscillante con oscillazione pari a 18 gradi e una frequenza di 0 3 hertz ed è stato posizionato nel foro con cui l'asta verrà accoppiata al telaio vediamo ora la carrellata dei componenti progettati abbiamo la ruota con 24 denti e possiamo osservare che gli spigoli vivi sono stati raccordati con un raggio di raccordo pari a 0,5 mm questo per facilitare la stampa 3d possiamo fare un'osservazione anche sull'asta questa è lunga a una quota di ingombro pari a 248 mm la quale può essere contenuta all'interno del piatto di stampa che ha dimensioni 250 x 160 mm tuttavia il piatto di stampa risulta non omogeneamente riscaldato e quindi si preferisce stampare solamente nella parte centrale per questo motivo si è scelto di dividere l'asta in due parti per poi andarle ad accoppiare successivamente inizialmente si era pensato di usare due piastrine e quattro viti m3 per poi sia per risparmiare sulle viti che sul materiale si è scelto di modificare il progetto cad in modo tale da poter accoppiare due parti con sole due viti m3 vediamo poi in alto destra i nottolini il distanziale il distanziale è stato progettato perché le due parti laterali del telaio sono distanti 21 mm essendo sia la ruota che l'asta pari a 10 mm il distanziale un distanziale 10 mm lascia solamente un occorre innanzitutto per limitare il moto assiale e in questo modo lascia un solo millimetro di gioco per per la libera rotazione sia dell'asta che della ruota il telaio presenta uno scasso come possiamo vedere in basso a destra uno scasso e questo è necessario perché altrimenti la vita m6 che accoppia il nottolino di sinistra all'asta andrebbe essere ostacolata dal telaio stesso e il meccanismo non funzionerebbe come si deve infine in basso possiamo vedere le viti utilizzate utilizzate sono state utilizzate due viti m6 due viti m8 e due viti m3 per accoppiare due parti dell'asta parliamo ora del processo di stampa la stampante utilizzata è la maker bot replicato 2x dell'azienda maker bot e possiamo affermare che affinché la stampa venga nel modo ottimale sono necessarie delle operazioni preliminari la prima di questa è il fatto di dover di coprire con un nastro di captain il piatto di stampa questo sia per aumentare l'aderenza tra il componente stampato e il piatto stesso sia per distribuire in maniera più uniforme il calore sul piatto dobbiamo poi ad ogni accensione livellare il piatto di stampa questo lo si fa mediante il la regolazione della distanza tra il piatto e l'estrusore in tre punti differenti dove la distanza ottimale pari a circa lo spessore di una carta di credito e una distanza troppo elevata comporterebbe una riduzione della precisione mentre una distanza troppo bassa una non omogenea uscita del materiale dall'estrusore infine quando si vuole eventualmente o quando si deve o quando si vuole sostituire la bobina bisogna attivare la funzione dal pannello lcd load o unload right in questo caso perché usiamo solamente l'estrusore di destra e l'estrusore verrà riscaldato e una volta caldo il motore passo passo all'interno dell'estrusore verrà fatto ruotare nel verso di stampa quando si carica e nel verso contrario quando si scarica la bobina in modo da far presa oppure rilasciare il filamento andiamo ora ai parametri di stampa abbiamo device setting in cui si imposta la velocità e la temperatura dell'estrusore del piatto di stampa i parametri riguardo alla velocità non sono stati variati mentre quelli della temperatura possiamo dire che il il piatto di stampa è stato aumentato a 200 a 123 gradi questo per aumentare l'aderenza tra componente e il piatto stesso e la temperatura dell'estrusore a 240 gradi è importante osservare che anche se non utilizzato la temperatura dell'estrusore sinistro deve portarsi deve essere impostata pari a quello di destro perché altrimenti il sistema di controllo che lo stesso per i due estrusori da un errore abbiamo poi extrusion speed in cui è possibile regolare la velocità di estrusione una velocità di estrusione più elevata comporta una finitura peggiore ma un tempo di stampa migliore cioè più veloce infine abbiamo l'infil in cui si regola il livello di densità del materiale e dove non servono dove non occorrono importanti esigenze strutturali si può ridurre il livello di riempimento e questo comporta sia un risparmio di materiale che una diminuzione del tempo di stampa model properties si può in questa sezione andare a regolare l'altezza del singolo strato e il lo spessore del guscio esterno che verrà riempito al 100 per cento in termini di di layer e infine l'ultima sezione si va a selezionare quelle che sono le caratteristiche del supporto che è necessario per stampare eventuali parti a sbalzo e del raft come possiamo vedere in figura il raft è una base di materiale facilmente facilmente rimovibile dal componente che ci permette di ridurre le deformazioni dovute a contrazione termica e di facilitare il distacco del pezzo dal piatto di stampa il problema l'unico problema che si riscontra durante la stampa che è stato un problema importante infatti ha tenuto la macchina inutilizzabile per due giorni è stato l'inceppamento del filamento all'interno dell'ugello estrusore per poterlo riparare si è dovuto smontare l'estrusore aprirlo e cambiare l'ugello vediamo ora un piccolo video del componente stampato assemblato e il suo funzionamento grazie per la vostra attenzione bene grazie avevo alcune domande la prima qual è stata la percentuale di riempimento effettiva dei singoli componenti allora percentuale di riempimento è stata del 40 per cento per tutti i componenti e quando si è incepato il filamento il componente non è stato terminato e questo ci permette in questa figura qua di poter vedere anche il componente nel suo stato centrale in uno degli stati centrali in cui si osserva appunto la percentuale di riempimento invece come tempi di stampa quali sono stati più o meno i tempi di stampa per alcuni dei componenti ok possiamo dire che il componente più grande la ruota centrale quello che ci ha messo che impiegato più tempo la ruota centrale ci ha messo all'incirca due ore e mezza quindi la stampa è stata abbastanza veloce avete utilizzato dei materiali di supporto in alcuni per alcune applicazioni per alcuni componenti in questo caso non è stato necessario no in questo caso materiali di supporto non ce ne sono stati non è stato necessario perché non ci sono parti a sbalzo invece si è utilizzato il raft per tutti i componenti ed è stato secondo me estremamente vantaggioso si è provato inizialmente senza raft e i componenti nella parte più bassa venivano con una finitura pessima invece con raft totalmente un'altra cosa bene grazie grazie a lei